No, 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 no Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati con la nostra cadena natura e con il nostro Fulham Siamo qui alla fine del mercato di gennaio, dobbiamo chiuderlo oggi Infatti vi faccio vedere subito il calendario dove andremo a giocarci due partite Una la simuleremo, dobbiamo decidere quale simulare ma penso Barton o Bansley Oppure in teoria possiamo simularci anche la partita di Coppa Visto che il nostro obiettivo l'abbiamo superato Quindi ci simuliamo la partita di Coppa e ci giochiamo le due di campionato contro il Barton e il Bansley Dobbiamo vendere in questa piccola finestra di mercato, in queste poco più di una settimana, in 10 giorni Dobbiamo riuscire a vendere però prima c'è la partita Quindi andiamo a giocarci, la faccio la formazione e ci rivediamo Ci rendiamo a un campo con questa super formazione Con Kebano, Fonte, Cliver, Davis, Carni, McDonald's, Segnon, Twanzebe, Kalash, Fredericks e Drommel Super formazione per questa partita importante Andare a vincere piove, quindi attenzione alla pioggia Ma noi siamo al Fulham, noi non possiamo perdere Buono Carni, se ne va la grande Carni Carni può liberare il Mancino Carni Al decimo minuto il nostro capitano Subito con una botta da fuori aria Fa l'1-0 Ci porta in vantaggio Buono così ragazzi Buono qui Davis Aspetta l'inserimento di qualcuno Ancora Davis Torna indietro Vede Carni Lo vede anche Fonte Oddio la palla arriva a Kebano Si incastrano con Carni Appoggia dietro per McDonald's McDonald's apri per Fredericks Ancora per McDonald's Palla e mezzo per Davis Davis prova di prima per Fonte Non gli arriva la palla Prova a recuperarla ma Chiuso la difesa C'è Fredericks Vede il passaggio in mezzo per Carni Tiro debole Peccato col destro C'è la palla del portiere Abbiamo anche un calcio d'angolo qua Di Kebano In mezzo Il gol di Fonte 2-0 Al quarantatresimo Ottimo così Raddoppio per Cula Fonte Uno contro uno Vede Kluivert Che sta inserito bene Kluivert Rientra bene Con le sue finte Ancora Kluivert Buono Kluivert Il tiro Oddio Fuori di fuoco E finisce anche il primo tempo Con una grandissima azione di Kluivert Che giocatore Ragazzi anche nella realtà Sta facendo faville Ha fatto una tripletta Con l'Ajax Assurdo Si segna ogni mezzo Per Fonte Fonte col tiro a giro Fuori di poco Possiamo fare i nostri cambi Vorrei mettere Il nostro Robinson Al posto di carne Che è un po' stanco Vorrei mettere pure Gomes Per Davis Potrei cambiare anche in attacco Si mettiamo Kamara Per Kluivert Così facciamo i nostri tre cambi E la squadra si riposa Vede McDonald E lo serve McDonald Da spazio McDonald Non lo attacca nessuno All'Ajax McDonald Va al gol Col 3 a 0 Traversa rete Di McDonald Grande azione Nessuno lo attaccava Voglio andare al dritto E ha segnato Senza problemi Partita chiuda Chebano Prova a lottare Bravissimo Chebano Ancora qualche energia Per lui McDonald Rientra McDonald La palla di là Per Fonte Che aspetta L'inserimento di Robinson Fa andare Robinson Il tiro di Robinson Il palla di Robinson Ma prima o poi Segnerà il nostro giovane Segnerà Abbiamo anche un calcio d'angolo Calcio d'angolo Che batte Proprio che vanno In mezzo A cercare La testa magari di Fonte Oppure di Robinson Juan Zebe invece L'appoggio al portiere Finisce qua La partita sul 3 a 0 Un'ottima vittoria Il nostro Fulham Veramente Infermabile Implacabile Ottima partita Andiamo a 16 tiri A 1 0 si importa Per il Barton Proprio annientati E dovremmo essere lì In lotta per il primo posto Perché adesso La faccenda Premier League Anzi la faccenda Per il momento Championship Ma che poi sarà La Premier League Si fa interessante Perché Attenzione Sperando che sia La Premier League Non vediamo da qui Perché adesso C'è la partita di Coppa Di FK Vediamo che siamo terzi A 4 punti Dagli Wolves E a 1 punto Dalla Stone Villa Non lo vedete Perché ci sono Nel mezzo Ma ve lo dico io 57 per gli Wolves 53 per noi Siamo vicini Quindi non demortiamo Non mogliamo la presa E ce la facciamo Andiamo a fare Tutta la sessione precedente Direi di sì Anche se Per il momento Cambierei un pochino Se sei non Visto che l'abbiamo allenato Abbastanza E allenerei Clivert Soprattutto nel tiro Quindi simuliamo tutto Vediamo se Sale qualcuno Attenzione Prende una B-Brom E le sale a 71 Buono così Ok ragazzi Ci arriva un'altra offerta Per Odoi Io Purtroppo devo vendere Non vorrei vendere Odoi Abbiamo Fredericks E basta Come terzino destro Però diciamo Che se ci arrivano Intorno ai 2 milioni e mezzo Possiamo farlo Partire via Quindi Lo delego E vediamo cosa succede Mentre Stephen Humphries Dovrebbe andare via Adesso Guardiamo Comunque Avanziamo fino alla prossima partita Se non ci arrivano altre Offerte Vorrei Come vi ho detto Vendere uno tra Mollo E Chebano Però non è facile Purtroppo Non sono arrivate altre trattative Anzi È stata fermata Per Stephen Humphries E poi vabbè Per Pulisic Non ci interessa Basta troppo Quindi adesso Mi faccio la formazione E ci andiamo a simulare La partita contro il Bristol Anche se direi Di lasciare tranquillamente La formazione italiana Tanto Si è riposata abbastanza Quindi Andiamo a simulare La partita in casa Contro il Bristol Di Coppa Sperando Di poterla vincere Per passare il turno Per guadagnare qualche Eurino in più Comunque Drome, Lodoy, Kalash, Toanzebet, Segnon, McDonald, Dejon, Carni, Clivert, Fonte, Mollo Formazione fortissima Che deve battere questo Bristol Tanto subito ha munito Doi Forse un po' di risentimento Per questa trattativa Anche se Insomma 2 milioni e mezzo Farebbero ovviamente comodo Moore segna però Fonte pareggia subito Meno male 35esimo e 36esimo Li botta risposta Kicklop, Glitch E poi Carni nel secondo tempo Ci porta in vantaggio Per il 2-1 Speriamo di mantenerlo Mancano 20 minuti Dai ragazzi Dai ragazzi Finiamo questo risultato Magari un 3-1 Non ci starebbe male Però Però va bene così Va bene il 2-1 Quindi passiamo il turno di Coppa Contro il Bristol Buono Dovrebbero arrivare anche altri soldi Per il nostro budget Soprattutto per risanare un pochino Il debito che abbiamo Scende la valutazione allenatore Ovviamente Andiamo a fare anche gli ultimi allenamenti Quindi simuliamo tutto Sperando che salga qualcuno Il nostro Robinson deve risalire ancora Non sarà nessuno Però Clivert si avvicina moltissimo A 76 Lo voglio allenare soprattutto nei piedi Soprattutto la posizione attacco Che ha solo 59 Vorrei farlo migliorare Comunque ci arriva una mail Che dovrebbe essere qualche giocatore Contento Ai te Bravissimo Ai te Adesso arriviamo fino alla prossima partita Purtroppo non arrivano altre offerte Quindi non ci possiamo fare niente Ok Ne è arrivata una Per McDonald Ragazzi 3 milioni per McDonald McDonald è un giocatore che potrei cedere In teoria Visto che abbiamo abbastanza centrompisti Abbiamo il nostro Sissè Quanto è 3 milioni Io ragazzi La vado a trattare personalmente Perché Intorno ai 3 milioni e mezzo Già Per me è una buonissima offerta Attenzione che Rafa Benitez Che andiamo a trattare Il gordo Rafa Benitez Quindi facciamo una nuova offerta Proviamo A alzare la sticella A 3 milioni e 7 e 50 E guardiamo cosa dicono Senza riprendita Se no si incavolano Non dovrebbe essere una offerta Troppo alta Guardiamo un pochino Cosa ci dicono Non voglio arrivare a muro contro muro Vabbè Cavolo Avevo offerto 50 mila euro in più Ma sei proprio un gordo Benitez Contro offerta No Vabbè Nuova offerta Facciamo 3 milioni e 6 Dai Ci avviciniamo A 3 milioni e 6 Non vorrei scendere sotto i 3 e 5 Dai Dai gordone La nostra ultima offerta Mi dispiace Scendo a 3 e 5 e basta Quindi fai una nuova offerta 3 e 5 Non scendo di più Perché È troppo poco 3 milioni e 100 So ha 29 anni Però è un buon 73 Insomma Se lo vuole il Newcastle Vuol dire che Ha un po' di No vabbè No L'ho abbassata e si è incavolato No vabbè ragazzi Queste trattative Quest'anno sono una cosa Assurda Assurda Quindi niente Interesse per Charlie Musonda Vabbè Non mi interessa Perché anche Musonda Costa troppo Quindi Andiamo avanti Con l'ultima partita Arriva il premio torneo Con la partita contro i Barns Le è importante Vincere 100 mila euro Che non fanno male Insomma E arrivano anche aggiornamenti Dell'osservatore Cioè qualche giovane Devo prendere assolutamente uno Questo qui è quello Con potenziale più alto 67,89 Allora questo qui fa schifo Quindi possiamo tranquillamente Ripetarlo Questo fa schifissimo Quindi ripetiamo 66,88 Questo fa schifo Quindi Io aspetterei Uno di questi due Magari Si rivela un pochino Più interessante Di quello che per il momento è Quest'altro 1,98 E fa il portiere Attenzione Un portiere Questo invece Fa il centrocampista Alan Insomma Fa un po' tutti i ruoli Vediamo un pochino Quindi Seguiamo più vicino A questi due giovani Il per uno Mi interessa Vado a fare la formazione Facciamo l'ultima partita Di oggi Ok Fuori caso Andremo a scendere Con questa formazione Drommel Suarez Rimm Cala Shodoi Sisse Anzi no Al posto di Doi Voglio mettere Pedriks Comunque Sisse Davis Carni A centrocampo Kebano Camara Hai te Tiro d'attacco Hai te Per Davis Davis Prova il tiro Oddio la botta Palla arriva Ancora hai te Di testa In qualche modo Forse c'è calcio d'angolo Sì sì C'è calcio d'angolo La palla in mezzo di Carni A cercare ancora hai te Non la prende Carni Carni per hai te Buono Qui il filtrante per Davis Arriva al tiro Davis L'1 a 0 Di Tom Davis Gran botta di Mancino Allo scadere Del primo tempo Una squadra che Si era un po' addormentata Questo pull In questo Primo tempo Di questa partita Però Qui un lampo Di Davis Una botta micidiale Di prima intenzione E il nostro giovane Nostro per due anni Fa l'1 a 0 E finisce anche Il primo tempo Proprio sull'1 a 0 Di Tom Davis Facciamo un paio di cambi Leverei Kebano E metterei Al suo posto Klyvert Perché no E poi Leverei pure Carni Metterei Vai mettiamo Robinson Dai Che dobbiamo farlo giocare Buono Suare Se sventa Probabilmente L'ultima occasione Per il Bansley Infatti finisce qui Con questo dribbling Secco di Klyvert La partita 1 a 0 Meno convincente Della scorsa Ma è comunque Una vittoria Tre punti Perfetti Anche questa volta Zero tiri Importa Quindi diciamo Che la difesa Si sta comportando Benissimo Nonostante non abbiamo Così tanti ricambi In difesa Però Per il momento Va benissimo così Il centrocampo Fa il suo lavoro E l'attacco Segna quando serve Saliamo a 74 Di valutazione Il che vuol dire Tanta roba Anche se non stiamo Seguendo i piani Al punto di vista Economico Penso Anzi no Dei giovani Ragazzi I giovani Lo stiamo facendo Adesso dobbiamo Prendere il secondo giocatore Lo stiamo facendo Ovviamente Ci vuole tutta la stagione Per completarli La striscia positiva Ancora manca E poi Il problema È questo 20 milioni Di guadagno Che non ce la faremo mai Siamo secondi In NFL Champions Quindi è per questo Anche che è salita La valutazione E quindi Andiamo avanti Adesso ci saranno Le ultime ore di mercato Io proverò A accettare Qualche offerta Intanto A Sensi è andata Dal Paris Saint Germain Per 103 milioni Veramente Assurdo Mamma mia Un'offerta Micidiale Per il Paris Saint Germain Che dopo Nei Marsi Prende anche a Sensio Di lato Una mail Tra l'altro Trattativa interrotta Con Dennis Odoi Non hanno Raggiunto Un compromesso Per il cartellino Quindi Andiamo avanti Forestieri Che arriva al Tottenham Però non penso Che sia Un grande Trattativa di mercato Non arrivano Offerte Per il momento Quindi per il momento Non possiamo cedere Finché non ci arrivano Ragazzi Non ci posso fare niente Ovviamente Se ne arriverà una Andrò a trattarla Direttamente 5 ore alla fine Ruben Va al CSK Mosca Arriva un'offerta Per Ryan Sessegnon Di prestito Ryan Sessegnon Dovrebbe essere Il terzino Destro No Il terzino Sinistro Ryan No ragazzi Ryan Non può andare In prestito Mi serve Assolutamente Quindi Rifiuto Offerta Poi si è arrivata Un'offerta Ma nemmeno L'avrei accettata Perché è il nostro Unico terzino Sinistro Visto che Rafa Soares Sesse in prestito Quindi Rifiuto Offerta Categoricamente Per Ryan Che rimane Mi confondo Perché abbiamo Un'altra Sessegnon Che però Il terzino Destro E quello Lo potrei dare Volentieri In prestito Visto che Ha un 57 E che quindi Non lo utilizzerei Avendo Odoi E Fredericks A alternarsi E Tebo Va al Birmingham Mi pare E che Che ha un pompone Va al Friburgo Va bene A Freiburg Mancano due ore Quindi ragazzi Purtroppo Non abbiamo ceduto Nessuno Ma non è colpa mia Insomma Se Benitez Si incavola In quel modo Avrei Avrei potuto cedere Anche McDonald Che è un giocatore Su cui punto molto Il nostro titolare Quindi Niente da fare Finisce il mercato Con la trattativa Del senso La più importante Nel prossimo episodio Vi farò vedere Un pochino Che partite ci saranno È arrivata adesso Un'offerta per il trasferimento Per Kebano Eh ragazzi Dammela dopo Questa offerta Vabbè Che lo posso anche cedere Adesso Però Vale 8 milioni Quindi 6 milioni e 9 Assolutamente no Io lo posso anche accettare St'offerta Perché mi servono i soldi Però La devo trattare Assolutamente Quindi Per me Vale 8 milioni Per loro Circa 7 Io farei Un 8 e 9 8 e 9 Secondo me È una buona offerta Un ragazzo Che Su cui io Ponto molto Quindi Ho bisogno di lui Assolutamente Guardiamo cosa dicono No Va bene C'è una troppa Differenza Ragazzi Per me Vale 8 milioni Quindi 8 e 9 Non è recessiva Spero arriveranno altre offerte Durante La stagione E magari andremo a vendere Poi A fine Per giugno E quindi i soldi Ci arriveranno Lo stesso in tempo Il profitto Continua a scendere Nonostante Abbiamo un budget Trasferimenti Di 5 milioni E 4 Quindi qualcosina Abbiamo in teoria Che non ho speso Però Non ci posso fare niente Ragazzi Nel prossimo episodio Andiamo a giocarci Queste 4 partite Contro Nottingham Forest Bolton Aston Villa E Bristol Insomma 4 partite Interessanti Ne simuleremo una Come sempre Poi da quella dopo Abbiamo gli Wolves Quindi scontro al vertice Per poi chiudere Questa stagione Spero con la promozione In Premier League Ci conto veramente tanto Scrivetemi nei commenti Se secondo voi Ce la faremo Intanto Robinson È salito di 10 Quindi appena giocherà Le 5 partite Faremo il primo obiettivo Per i giovani Quindi ci alzerà Forse un pochino La votazione Che è tornata A 74 Quindi buono Quindi scrivetemi Nei commenti Se secondo voi Riusciremo a arrivare In Premier League Chi secondo voi Ancora ve lo chiedo Dovremmo vendere Tra Kebano e Mollo Che sono i due indiziati O anche IT I tre più indiziati A andare via E vi ricordo come sempre Be yourself Stay ignorant E non vi dimenticate Mi piace ragazzi 150 mi piace Come sempre E non vi dimenticate I love you I love you I love you There's Tom Kearney Under the left foot Goes for goal Yes 1-0 Ancora with the left foot Pulls it back to Tom Kearney Edge of the box Oh what a goal Pulls the edge of the box A little step over Touches it for Tom Kearney Under the left foot Yes Eeeeee Eeeeee